Ciao ragazze, ciao a tutti! Nuovo video, questa è una review dell'ultimo acquisto fatto nel negozio Desideri di Cristallo. Ho acquistato pochissime cose, ma delle cose che non avevo mai preso, quindi volevo farvele vedere. Allora, innanzitutto ho acquistato il cuoglio Regaliz per fare i bracciali. Allora, io l'ho preso in questo verde qui, che è un verde prato, così riporta la descrizione sul sito. Allora, la misura è 10x7 e sono 50 cm di filo e l'ho pagato 5,87 euro. A questo ho aggiunto i due passanti, li ho presi lisci, bombati, non so se li vedete. La misura sempre 10x7 e costano 0,70 centesimi l'uno. Poi ho acquistato il terminale argentato, sempre 10x7, insomma è esattamente ad incastro. Poi ne realizzeremo uno insieme e vi farò vedere come sistemarlo, cosa creare con questo. Proprio in previsione di questo progetto ho acquistato anche le Delica Verdi, codice DB0148, 8 grammi. Questo il prezzo non me lo ricordo, ma ve lo farò sapere. Poi ho acquistato questi champs specchietto, sono in resina e hanno una pellicola che poi si toglie. Vediamo se riesco a farvi vedere, ecco questo l'avevo già visto, vedete? Questo perché è decorato si vede poco, ma riflette l'immagine. Ho preso le due borsette e poi avevo preso l'arco di trionfo. Questi poi ve li farò vedere montati su dei bracciali. Altra cosa che ho preso è la catena in ottone. Questo è da 3 mm, un metro, piccolissimo, e l'ho pagata a 2,18 euro. Insieme a questo ho preso i moschettoni, è un moschettone da 10 mm, viene venduto singolarmente e costa 0,19 centesimi. Poi ho acquistato anche la bustina di anellini, adesso ve li faccio vedere perché li ho aperti. Sono sempre da 3 mm, ogni bustina ne contiene 20 pezzi e costano 0,61 centesimi. A questo ho aggiunto anche questo Mega Charms a forma di chiave, è una chiave molto grande, se vedete, prende tutta la mia mano e misura 65x30 e costa 2,54 euro. Poi volevo farvi vedere delle cose che non vi ho fatto vedere nell'ultima recensione, che ho fatto per questo negozio, che erano le Madre Perla decorate. Visto che ne approfitto per parlare di questo negozio, ve li faccio vedere. Allora questa, vedete che bella, guardate che riflessi. e poi ne ho presi due così, e due verdi e blu. Come le chiamo io, effetto coda di pavone. Mi piace molto, non vedo l'ora di incastonarla, volevo fare un paio di orecchini per me. E anche questo ve li farò vedere prossimamente. Per il momento è tutto, come sempre, un grazie infinito a Ramona, perché è una ragazza veramente deliziosa, adorabile. Ogni volta che acquisto da lei è più un divertimento che uno svenarsi e basta. È sempre pronta a darvi un consiglio. Per esempio io non sapevo che colore abbinare a questo qui, al cuoio. Lei mi ha consigliato questo verde, che io oltretutto non avevo mai provato e che ho scoperto di adorare. Ci sentiamo prossimamente, così faremo insieme un bracciale con il cuoio. Ciao ragazzi, a presto!